e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su fornit e voglio farvi voglio fare un montage sugli edit o qualche video così di tattiche per sconfiggere i nemici così è perfetto e gioco da switch switch light vi consiglio anche delle impostazioni per editare come per editare più veloce per fare cose per editare mentre vi muovete per editare da fermi per fare qualunque cosa editando adesso aspettiamo che si carica che si muove ancora manca un po muovi ok sta facendo poi voglio dire anche delle cose per fightare ok andiamo a attraverso il video non c'è da a siamo una build super la loro la build suprema aspetta ahi hanno tolto la build suprema? no questa è la build suprema con il codice 111111 la build suprema ok la build suprema stiamo ballando ora vi comincio a farvi vedere un po' di cose ovviamente il video fare un po' velocemente perché sennò il video 75 minuti allora diamo lo spasso ok dov'è? ma dov'è? ma chi lo so dov'è? ma dov'è il pompa blu? vabbè eccolo allora io per editare da fermi e per fare questo per fare un po' di scena vi consiglio di mettere per editare la frecce sta a destra se siete da console come vedete vi farò editare molto più velocemente vedete? invece se volete se volete editare mentre vi muovete mettete l'analogico che io è il testo che uso di solito anche con l'analogico si edita veloce ma preferisco perché con l'analogico si possono fare molte più cose tipo si può fare questo con l'analogico si può tonnellare anche gli edit così da fermi poi io per questi così se la frecce sta a destra per chi è da console un po' per a parte per chi gioca visto che io non gioco in claw la frecce sta a destra la uso solo quando sto per fermo invece chi gioca in claw la può usare anche come analogico vi mostro un po' di tecniche fate finta che questo è un box avversario vi faccio vedere meglio come si fanno i mongrel al classico allora sprendo il muro giri scala invece di switchare col piccone non lo switchi e spari invece che switchare vi faccio vedere meglio ecco fate così prendete il muro tenete sempre il pompo e sparate poi l'essenza che vi consiglio è di mettere le opzioni avanzate mettere modifica tempo di pressione a 0,100 pensi il simbilità visuale così do il tempo di prenderle poi così lineare 0,0 ok e ora che vi ho detto queste tecniche vi lascio un piccolo montage brevi un po' mi ti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie